www.feyyaz.tv non ce la faccio, non ce la faccio sono le 9 mamma mia ora ci saranno i campanini e dopo le tre scappate dai guardate non mi vengono io vuoi? vuoi? voglio provare i vari orizzati mi dice Angelo non conta saperli o quanto vuoi prenderli bene piuttosto l'olgo come va? come va? come va? cosa c'è me? che mattina? la garazza? e ripeto volta che mattina? che mattina? che mattina? che mattina? che mattina? che mattina? c'è me chai le grazie a tutti 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 grazie a tutti